Buongiorno, queste sono le mie amiche che si vergognano, buongiorno, abbiamo Alexandra, Mari e quest'altra cosa si chiama, Ilaria e Valentina, poi ci sono io che sto mutando quindi aspettate, no si pensate voi, buongiorno, questo è il primo vlog penso dopo cent'anni, mamma mia, stiamo per fare colazione, con cosa facci vedere, apri apri apri, siamo a monopoli verso Bari, faccio vedere, mamma mia, mamma mia, vabbè ragazzi allora io ora mi posiziono, aspetta che qua, no, bevole mio, farà questo, ti volevo fare la foto, queste sono infami, volevano farmi la foto con la bocca aperta, mangio, qual è il mio, questo, no secondo me questa è la crema, si, quello sicuro è la crema, questo è il mio, questo, sarà molto interessante adesso io, se ne ho toccato nessuno, non puoi mangiare, che schifo è, ah, sono tagliate a pezzi, e come te la dobbiamo mettere intera, cioè ma sembra, non lo so, rape, è orrendo, ma è bruttissimo, ma che chi li fa, mamma mia, ma perché mette una crema, se tu hai mangiato ragazzi, prendete e mangiatene tutti, buonissimo, faccio, tieni Alex, grazie, fragole, ancora, grazie, grazie, Giorgia ma che palle, io l'ho segnato, il tuo punto non lo segnalerò, sbagliatelo, ah, mamma mia, c'è, allora, allora, un concerto appena svegliate la mattina, uno, beh, ma loro vogliono vedere la verità, no, le cose fatte, finte, le amiche perfette, tutte, ah, voi siete nozzarone. Io sono consapevole che di prima mattina è un po', non si può. Ecco, magari i video li facciamo di poverino. Sì, infatti, no, vabbè, mi sono sistemato una reputazione. Nelle occhiaie mi sembra. Valentina versione Paolo Zazzaretta della... È vero. Chi è Paolo Zazzaretta? Quello che fa le foto e i video alla Mediaset. Treccia time. E' vero. E' vero. E' vero. E' disturbato. io non ho parole no, puoi vedere nel video che sta succedendo no, ma va benissimo bravo, così vedete quanto sei cioè, quell'altra che suggerisce si, così se mi prendi la macchinetta mamma mia, è una bestemmiona no, perché tanto toglierò l'audio di questa merda no, scherzo, sto mettendo il secondo correttore ne metto prima aranciato per annullare l'effetto dell'occhiaia viola e questa è concorrenza, che è questa youtubers? che sta riconoscendo non è quella di mente se tu stai riconoscendo chi è? chi è? credo, credo, credo perché io le seguo le youtubers cipria di bottega verde non si vede un cazzo ma era bruttissimo blush di Kiko numero 102 buonissimo il 102 cioè, proprio per la mia carnagione questa e questa la canzone sotto no, non so no, no, mettete canzoni che mi copyrights di youtube come le censure che toglie il video è un studio non so grazie non so non so no non so non so ora non so non so non so non so Loro invece ancora no, eccole, anche loro stanno intrecciandosi i capelli, la nostra Ilaria addetta al parrucco, l'altra è addetta alle riprese ogni tanto e a rompere sempre, io ti servo, lei, vabbè, tu in realtà non hai una funzione, e io? Make out, come si dice, George e io? Io non mi si no, cioè che casino, la signora che ci ha spittato la casa morirà quando vedrà tutto questo, io dormito nel letto dei puffi, che è esattamente questo, cioè guardate quanto è lei rispetto al letto, per farvi capire, Invece loro comodamente nel letto matrimoniale, dove entra un'orca e una balena, non sono loro chiaramente, non mi permetterei mai di dirlo in videocamera, dal vivo voglio dirlo di notere La cosa brutta è che per andare in bagno bisogna farsi tutta questa scala ogni volta, che è super ripida, quindi ti passa proprio la voglia di andare a fare la pipì in questa casa E per andare a quello di giù, c'è un'altra scala, eccola, guardate C'è poco E questa macchinetta, guardate? E niente, vi portiamo in giù per la città A presto, guardate La mia città è un'altra scala, ma camminare, a confine Un'altra scala, guardate La mia città è una macchinetta inquietta E ristrata E ristrata E ristrata E ristrata Siamo arrivati in macchina Magari non mi dispendi la targa No, ci mancherebbe Questa è la macchina, non è la mia La mia la vedrete dopo, so che vi manca la mia macchina Finalmente qui c'è la buona lì Non mettete musica per favore Per chi youtube è un po' stronzo No vabbè dopo la mettete, è giusto il tempo della ripresa Ragazze avete qualcosa da dire? E Giorgia io devo guidare Magari i ledi Mi rimproverano Magari una frenata e se ne parte la macchina poi Voi immaginatevi la musica Qui metterò la musica di sottofondo Quindi immaginate che ci sia Nicola, porta a Lecce La pubblicità a Lecce Amore Lecce Se vengono a nome mio non fai lo sconto Sì certo Fanno lo sconto Siamo arrivati a casa E la mamma di Valentina Da buona salentina doc Ci ha preparato solo qualcosa da mangiare Cioè questa è la frutta Poi ci sono le patatine Le cotolette Poi abbiamo preso La mia droga Chiaramente La coca cola E panzerotti che dopo vedrete Cioè vabbè qui c'è di tutto Non potete capire La focaccia La focaccia Abbiamo di tutto Abbiamo anche due pesci rossi da friggere No scherzo Bacio No Volete sapere cos'è questo? Ecco faccio questo annuncio In modo che se qualcuna di voi verrà A questo concerto Mi potete Cioè ci possiamo incontrare lì E conoscere lì Questo è I biglietti Per il concerto Di Alessandra Amoroso A Bari Il 18 ottobre Ehm Di quest'anno Però non li mette a fuoco Quindi vi faccio vedere così Allora Valentina ha una particolarità E' sempre molto felice Deppi E infatti queste sono le sue patatine Le assomigliano Tu me lo da un bacetto Aspetta Io glielo ho dato Lei non me l'ha dato Aspetta Mi l'ho dato anch'io Ok Amore Vai facciamo un bacio assemblage Uhhh che carino Vediamo l'aria che si deve operare No 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 Il nostro piluto Vale Si è risanato a me Ehm Facci vedere Guarda Se non è un po' mi rai Ehm 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 Non prendere il mio lato peggiore Ti ha messo la curia Ti ha messo la curia Già E' molto burto Mmm Scusate Oggi Gira di spalle Sta bene Ah Ovviamente non mi si chiude il vestito per quanto mangia Devo cambiare col vestito aperto Vabbè Il vestito non per vantarmi Mettaglia 34 Perché non c'era la taglia più grande Ma mi piaceva così tanto che ho voluto prenderlo lo stesso E non si chiude quando mangio Quindi Veloci chiude guardate Con una mano Forza Ma vomit Ahahah 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 Mi sono andata Ahahah Mi stavo grattando Ahahah Dupurosi Ah stop il corso Abbiamo dormito E questo è il risultato Vediamo loro Belle Piccoli Mamma che sono Ci hanno fatti i grattini I grattini I grattini Come si chiamano i grattini Il vestito è ancora più slacciato di prima E adesso andiamo a Pollignano Dove hanno fatto Beautiful E' famoso per questo Cosa? Ovviamente ma è una gioia Io che amo solo te Poi Non ti lascerò Non ti perderò Non ero Per cercare nuove avventure C'è gente Che ama Mille cose E qui viene di per Per cercare nuove avventure C'è gente Che ama Che ama Solo te Sempre io e Valentina Non ti perderò Non ti lascerò Per cercare Non c'è la frase Ok concludiamo Va bene Unica Pam 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 Yeeey Viva la fila Siamo a Pollignano E fa un caldo Porco Fa un caldo porco L'intera giornata con loro Che bello Che bello Non è un caldo Che bello Che bello Non ciò Non ciò Non ciò Non ciò Fa un caldo Per cercare Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti